Direzione San Vito Siamo al B&B Trigrana Adesso andiamo a incontrare Rosanna Siamo appena arrivati Siamo a Castelluzzo Viaggiamo in Sicilia Andiamo a incontrare Rosanna Finalmente siamo col proprietario Della struttura turistica Ha avuto a che fare con i turisti Per rendere sempre un servizio Maggiore per la sua struttura Adesso siamo con lei Io ti chiedo a Raffica, a Rosanna Dimmi Innanzitutto ciao Ciao Voglio sapere tutto di questa struttura Voglio dimmi tutto quello che è loro La struttura, il Trigrana Nasce nel 2006 Lavoriamo insieme con mia madre Una gestione familiare Allora da sei anni viviamo in un bellissimo sogno Perché si lavora bene La gente rimane soddisfatta del nostro posto Della nostra struttura Del paesaggio che abbiamo Del mare Di quello che offre insomma il paese Questo già l'abbiamo visto giù Che abbiamo visto i clienti nel sollazzo Sì Però rilassati Non essere ripresi Solo che non so se li mettiamo effettivamente La più grande soddisfazione di questo lavoro È che poi praticamente i clienti Rimandano tutti gli amici E quindi si lavora a catena Vuol dire che questo lavoro insomma Quindi c'è il passaparola Il passaparola Si lavora bene Vuol dire che questo insomma piace Che loro si siano trovati bene E che insomma tutto procede per il meglio La gestione La colazione La pulizia giornaliera Ma anche il trattamento Che facciamo ai nostri ospiti Poi io sono una persona abbastanza aperta Quindi cerco di mettere tutti proprio a suo agio Di farli sentire come una vera famiglia E insomma di farli stare bene Per quella settimana Che loro rimangono Ampi spazi per i bambini Per giocare Per stare liberi E soprattutto per stare tranquilli E lasciare la città alle spalle E venersi proprio qui a riposare Senza sentirsi RELAX Appunto Cosa è visto il mare Da quella che ha Allora noi siamo Vedete ma è dietro di noi Noi siamo distanti dal mare 800 metri Raggiungibile con le biciclette Che ci sono gratis All'interno della struttura Gratis Che noi mettiamo a disposizione Dei clienti Si può raggiungere ad 800 metri Anche attraverso i nostri campi Che scendono giù verso il mare Quindi attraversare proprio i campi La natura Proprio incontaminata E raggiungere il mare E poi lì giù C'è Baia Santa Margherita Dove c'è il trenino Che porta giù nelle calette Baia Santa Margherita E la riserva di Monte Cofano Alle nostre spalle Meravigliosa Noi siamo già state Una struttura a Monte Cofano Allora Rosanna Io ti ringrazio Per la disponibilità Che ci hai dato Grazie a voi Per averci accolto Con tanto amore All'interno della tua struttura Noi ci salutiamo Io saluto tutti i miei clienti Che sono stati qui da me Quest'estate Nelle scorsi stagioni E spero tanto Di rivedere tutti E di poterli ospitare nuovamente Come allora Spero tanto Che possano di nuovo stare bene E farsi di nuovo Delle belle vacanze Come hanno già fatto In questo mare stupendo Un beccaseluto Noi vi salutiamo Ciao a tutti Grazie Viaggiamo in Sicilia Alla prossima Credo proprio che mi faccia un sonnellino Quindi Ciao Viaggiamo in Sicilia Dormiamo in Sicilia Dormiamo in Sicilia Dormiamo in Sicilia Dormiamo in Sicilia